Sul territorio cremasco vengono costruiti poli logistici e attività commerciali nuove a discapito delle aree verdi che si restringono sempre di più, mentre si presterebbero allo scopo capannoni dismessi come quello della ex latteria voltana che si trova vicino alla città. Sono quasi 50 anni che c'è questa cattedrale nel deserto, nel senso che nessuno ha fatto dei progetti di recupero e è quello che vogliamo fare noi perché essendo la nostra provincia, soprattutto la parte nord di cremasco, contagiato sempre di più dall'espansione cementificatoria di Milano, noi diciamo stop a nuove costruzioni in presenza di aree di importanti dismesse. Se si può vedere queste alle mie spalle l'ex latteria voltana è veramente uno scandalo che rimanga inutilizzata. Il cremasco sta subendo un'aggressione da parte della città diffusa che è la metropolo di Milano e man mano questa città diffusa viene anche verso di noi. Questa cosa è inaccettabile, abbiamo tante aree dismesse da recuperare. Qui si tratta anche di bonificare, è un'ex latteria, va fatto tutto un lavoro di bonifica, però ci può essere un recupero artigianale, commerciale di grande importanza. La città di Crema, qui siamo nel comune di Crema, siamo a Porta Umbriano neanche un chilometro, per cui è un'area molto importante da recuperare.